Ciao a tutte ragazze, qui è Crisilumers, è un altro che vi parla e benvenuti in questo nuovissimo video Allora, finalmente un nuovo video dopo tanto tempo Scusate tantissimo l'assenza ma il computer non mi caricava più video Infatti ora sto registrando dall'iPad E quindi la grafica sarà un po' minore Cioè sarà un po' più schifosa, brutta insomma Comunque spero vi vada bene lo stesso Scusate tantissimo per l'assenza ma vi ho detto che c'è stato questo problema col computer E non ho avuto tempo per registrare il video Perché ne avevo già registrati tre che erano sul computer Ma non posso caricarli Allora proverò a caricarlo da qui Poi come avete visto apriremo una nuova rubrica che sarà sulle Nell'Art Non vi preoccupate perché appena avremo tempo faremo qualche altro tutorial Scusate anche se non facciamo quelli in questo momento Ma con la scuola è tutto, è un po' difficile registrare tutorial E poi io sinceramente sto anche finendo gli elastici Quindi li farò un po' più raramente Comunque ho già in mente che tutorial fare Quindi magari a breve o tra poco dovrei riuscire a farlo Comunque questo sarà un video tag come vedete la titola Sarà il video tag sulle Yankee Candle Allora voglio fare questo video perché mi è sempre piaciuto Intanto il telefono squilla Perché mi sono sempre piaciute queste candele Però non le trovavo mai Poi un giorno in un negozio lo trovate E infatti ne ho comprate subito due Poi pian piano ho ampliato la mia collezione Allora come vedete Questo è un librettino che ho trovato quando lo comprate E dentro spiega in varie lingue Ecco come curare al meglio gli Yankee Candle Gli accessori e le cose che ci sono Se volete leggere Aspettate Stoppate il video e leggete Lo fermo un attimo almeno Qui E poi qui c'è scritto Insomma dove è il negozio di Yankee Candle Gli Yankee Candle sono queste candele appunto Che sarebbero in origine americane E ce ne sono di diverse grandezze Di diversi tipi E ci sono tanti accessori Ah questo è un cavetto che si muove Ehm Aspettate che faccio una bella cosa Ecco Ci sono le tartine Ci sono quelle medie Che non so come si chiamano Ehm Aspettate Allora Queste Le pillar e le giare Allora Le giare io ho quelle medie Poi ho le pillar Che sono quelle normali E poi c'è una tartina E poi ho alcuni accessori Allora Partiamo Dalle candele Gli accessori li lascio per ultimi Partiamo dalle candele Vado dalle più piccole Dalle più grandi Allora Questa è l'unica tartina che ho Che è la soft blanket Che È tutta bianca E appunto Questo odore Proprio È un odore Non è fortissimo Proprio soft Come dice il nome E l'immagine c'è qui Un orzetto Con una coperta No Stavano usando E Ha un odore buonissimo Poi Ora Passiamo Alle pillar Che ne ho Due Quattro Sei E questo Vi vado in ordine In cui le ho prese Allora La prima che ho preso in mano Perché ne ho prese due insieme Io le prendo Le prendo due a due È questa qui Al marshmallow Che Si chiama Fireside treats Che io Questa qui La amo alla follia È una cosa buonissima Sa proprio di marshmallow E Quando l'ho presa Per la prima volta Vedete Io le apro E ci attacco l'etichetta qui E Emano un odore Buonissimo Che Ti Ti profuma Tutta la stanza E quindi questa Me la consiglio tanto Se vi piacciono i marshmallow Ed è bianca anche questa E poi insieme Ho comprato Questa qui al cupcake Che Ha un odore Anche questo Molto simile A quello del cupcake Alla vaniglia Poi si chiama Vanilla cupcake Così E questa però è gialla Vi dico anche il colore Poi ho comprato Questa che ha la mela E ha un odore proprio Forte Nel senso È proprio mela Non è che Non è come questa Che ad esempio Si emana nella stanza Rimane molto concentrato Nella candela Però quando si va ad annusare L'odore si sente molto forte Ed è proprio una mela Ed è tutta rossa Ed è tutta rossa Come vedete Poi sono diverse Queste etichette Non chiedetemi perché Però credo Che queste siano Magari il modello Quello un po' più vecchio Questo quello più nuovo Però non lo so Poi Che è la vigila di Natale E Non è che ha proprio un odore Questa questa è proprio di candela Non ha un odore preciso Secondo me Però mi piaceva Perché era di Natale E l'odore non è male Se mi sentite un po' la voce È un po' così È perché ho un po' di raffreddore L'ultima pillar che ho Che credo si chiamiamo così Però non ne sono sicurissima Però vabbè È questa qui Vanilla Lime Che quest'odore Mi ha proprio incuriosito Perché Non so se avete presente Quei chewing gum Che hanno la forma di pallina da tennis Comunque Se li avete presenti Sono proprio rotondi Fatti a pallina da tennis E Comunque l'odore È simile al gusto di quelle Ed è buonissima E questa è verde Poi Questo è l'esposto Perché vi voglio far vedere Le mie due giare Che sono quelle medie E pensate Se queste sono quelle medie Quante sono grandi Quelle più Più grandi Allora Erano un pacco da due Che mi è arrivato per Natale Allora La prima giara Aspettate che sposto qua È questa qui Allora Sembra enorme Nella telecamera Ma È grande come La mano Vedete così E io non ho le mani Tanto grandi Comunque Ed è al sugar apple E questa candela E questa candela Ha un odore Che proprio Senti la mela Che sembra quasi Mela caramellata Ecco per farvi capire È tutta bianca E poi vedete C'è questo tappo in vetro La candela è così E sul tappo C'è scritto Yankee Candle E queste qui Sono bellissime Yankee Candle Company E queste candele Così fatte a giare Sono bellissime Fanno una bellissima figura E poi L'ultima jarra Che ho Devo stare attento Non far cadere l'ipad Eccola qui Che è Candy Cane Lane Che Questa qui Sa di menta Cioè Non so se avete presente Vedete questi bastoncini qui L'odore L'odore Sì il sapore Non è che la mangio la candela Il sapore Ridaglie L'odore È proprio quello Quando la sentite Per la prima volta È proprio menta È un patto di menta È buonissima Questa qui L'adoro Il tap È sempre come quella là Ed è tutta rossa Io questa qui L'adoro Alla follia Ha un odore buonissimo E questo è quello Che riguarda le candele Ora passiamo Agli accessori Non sono tantissimi Però Insomma Per le mie candele Bastano Allora Intanto ho Quattro di questi bicchierini qui Che non sono Yankee Candle Sono dei Normalissimi bicchierini Trasparenti Per le candele Dove ci metto Queste qua Perché comunque Un pochino Tipo queste rosse Macchiano Ah qui ci sono Dei brillantini Vabbè Perché avevo messo Delle stelline colorate Qui per Natale Comunque un pochino Diciamo Se le mettete Su una superficie bianca Un po' macchiano Quindi Ho preferito Metterle in questi Poi ora Ho accessori Tutti gli Yankee Candle Allora Ho Questo che è un piattino Natalizio Pensate Spesso di nuovo indietro Che vedete è fatto A pallina di Natale Rosso Con i fiocchi di neve Ed è della Yankee Candle Però non c'è scritto Perché era insieme Un'altra cosa Che vi faccio vedere ora Comunque è questo Ed è Di ceramica Credo Ed è abbastanza pesante Ed era insieme A questa Che è della Yankee Candle C'è scritto Che vedete Sembra una lampadina Aspettate Allora Mettiamo a fuoco Intanto Che vedete Sembra proprio Una lampada Il cappello Di una lampada E c'è scritto In tante lingue Buon Natale Intanto mi si vede Ciao E Questa è della Yankee Candle C'è scritto sotto Eccola E vi faccio un attimo Vedere come funziona Cioè come funziona Come va posizionato È per le giare Quelle medie E quelle grandi Praticamente Appoggiate semplicemente La giara Sul Sul piattino Ci mettete questo Vedete c'è l'incastro E Dopo viene così Sembra di avere Tipo una lampada Soprattutto Quando è accesa la candela E spingete la luce Sembra una lampada vera Perché La luce Viene fuori Da queste parti qui Che sono trasparenti Dove c'è scritto Buon Natale Ed è bellissimo Ce l'ha anche la mamma Di una mia amica Però ce l'ha tutta bianca Questa parte qui è bianca E anche il piattino E ha dei cuori Ritagliati dentro Dentro Il cappello E è bellissimo Quando c'è la luce spenta Allora questo lo lascio qui Perché poi lo rimetto là Devo stare attenta Perché se cade È un macello Poi l'ultima cosa È questo Che è Il scioglie essenze Questo qui Sto durando un po' troppo Prova Questo qui È il scioglie essenze Perché come vedete Le tartine Non hanno Lo stoppino Che è questo Quindi Questo qui È uno scioglie essenze E qui ci va messa Quelle Quelle candeline piccoline Che non so come si chiamano Con Quelle piccoline così Che ci sono anche in chiesa Vanno messe qui sotto E fanno Il calore Con la tartina qua In questo qua Che si scioglie Allora questo è proprio Yankee Candle C'è scritto anche I prodotti Yankee Candle Sono bellissimi E poi In giallo spero anche Di trovare I cestini Yankee Candle Allora qui Ah sì C'è scritto anche qui Io però Siccome Non le scioglio Queste candele Perché mi dispiace tanto Ci metto Una di queste qui Normali qua Perché si incastra Poi ci metto Questo sopra E metto La tartina dentro Allora Faccio un attimo vedere Così Allora Questo era Il video Delle mie Yankee Candle Spero che Vi sia piaciuto E che vi sia interessato Per questo In questo momento Possiamo fare Solo video tag E video Su Enelart Per quest'ultimo Momento Poi a breve Faremo anche Appunto il 31 Finisce il nostro giveaway E l'estrazione Ovviamente la faremo Qualche giorno dopo Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Mettete like Commentate Iscrivetevi Commentate sotto al video Qualche altre idee Per i video tag Perché per ora Possiamo fare solo quelli Oppure Consigliateci Delle Nellart A breve Non vi preoccupate Ricominceremo con il tutorial State tranquilli Iscrivetevi in tanti Ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao